Parliamo delle news di oggi, gente, dato che sono uscite le recensioni di Marvel Spider-Man 2, questo gioco in esclusiva per PS5, che come si può ben vedere su schermo è un gioco molto apprezzato dalla critica. C'è anche qua il bollino must play di Metacritic, come c'è anche su altri aggregatori di recensione, insomma, mi pare che si chiama Open qualcosa, io frequento sempre Metacritic perché è quello più semplice, però appunto ne parlano veramente molto bene di questo Spider-Man 2 e ti devo dire che non mi meraviglia la cosa perché, insomma, se avete giocato il primo Spider-Man e anche Miles Morales dovreste sapere appunto che il gioco è veramente... era già fatto bene appunto in quella prima versione, l'hanno migliorata in Miles Morales nonostante era un pochino diverso per quanto riguarda il gameplay e anche la storia protagonista e tutto il resto e alla fine hanno unito le due cose in questo giochino. Ora, quello che vi sto facendo vedere su schermo è una piccola anteprima della recensione essenzialmente tecnica di Digital Foundry che vi straconsiglio di andare a vedere, che ti spiega un po' di robe per quanto riguarda appunto il lato tecnico del gioco. Ora, se devo dire una cosa dopo aver visto la recensione ed essermi un pochino informato sul tutto è che non mi piace questa tendenza di Sony di fare dei giochi che supportano alcuni tipi di frame rate, in questo caso puoi giocare in modalità Fidelity che sarebbe tipo una modalità Qualità con risoluzione un pochino più alta, anche le texture migliori, ombre, insomma che sono fatte meglio rispetto alla modalità Performance. Però appunto è strano vedere che tu per giocare per esempio in modalità appunto Qualità a 40 fps che è ok, non è che sia tutto sto upgrade rispetto a 30, devi avere uno schermo a 120 Hz che è un pochino strano se mi permetti e tra l'altro mi pare che devi avere pure il Variable Fresh Rate, quella BRRR, quindi non lo so, veramente strane scelte. A parte questo vi faccio vedere anche qualcos'altro, dato che ho trovato altri video, io ve li faccio vedere giusto al volo, ovviamente questo viene da una recensione di Axios Gaming fatta da Steven Totino, questo è un giornalista molto conosciuto appunto in rete, dove ti fa vedere essenzialmente un po' di gameplay sul movimento di Spider-Man in giro per la città, soprattutto qua. Che sembra un pochino un gioco tipo Superman per certi versi perché dato che ha questa tutta l'area il personaggio riesce a rimanere in aria molto più a lungo di quanto magari potreste aspettarti e riesce a completare appunto queste mini sfide o quant'altro legate all'open world. Che secondo me è una gran figata, ora il tutto si vedrà un pochino male perché la comprensione di Twitter è quella che è gente, però ti ripeto il gioco sembra veramente molto interessante, tra l'altro ho visto la intro, credo che sia la intro, dove praticamente si vede che Spider-Man, o meglio due Spider-Man combattono contro un Sandman gigante, che dio mio è una cosa che non mi sarei mai aspettato di vedere in un gioco di questo tipo. Quindi non lo so, mi ha intrigato molto, cioè mi è quasi venuta voglia di comprarlo. Ora non lo farò perché voglio rimanere fedele alla mia filosofia che è un gioco ad 80 euro a lancio e a un furto, quindi non credo che lo farò. Ora sui siti di K mi pare che si può acquistarlo tipo verso 60-62 euro in questo momento, se vi può interessare il tutto. Però ti ripeto, il gioco è valido, il gioco è valido e magari c'è gente che mi dirà che gli vale questi soldi, assolutamente avete ragione gente, solo che io cerco di limitare le mie spese, quindi se posso evitare di spendere è meglio perché poi mi servono i soldini su Genshin e altri giochi e quant'altro. Detto questo, l'unica cosa che mi volevo far vedere, che si vede anche qua su schermo, l'abbiamo già intravista prima, è il sistema del fast travel, ovvero il viaggio rapido, che ha questa roba che tu vai direttamente nel punto dove tu vai ad indicare sulla mappa, quindi non stai praticamente andando tra una stazione della metropolitana all'altra o addirittura posti un pochino più specifici, però letteralmente puoi andare dove ti pare e il gioco ti teletrasporta lì. Oltre al fatto che, se vi andate a vedere la recensione di Digital Foundry, si vede che praticamente quando tu fai una missione, per esempio ti dicono di passare da uno Spider-Man all'altro, non c'è una transizione tipo a nero, assolutamente no, il gioco rimane fisso nel mondo di gioco, semplicemente la telecamera si sposta, va molto veloce e appunto ti va a teletrasportare un pochino dove si trova l'altro Spider-Man, che è una gran figata, se mi permetti, che va a sfruttare per bene tutte queste migliorie che ci sono nell'SSD di PS5 che ti permettono appunto di fare queste cose. Oggi, 17 ottobre del 2023, è una giornata molto ma molto particolare, magari non per me, magari non per molte persone, ma per il franchise del Marvel Cinematic Universe è il momento esatto nel quale muore il povero Tony Stark, ovvero Iron Man, che è stato condiviso un po' da tutti questa news di oggi, c'era in tendenza Iron Man su Twitter, a dire il vero non avevo neanche capito il perché, quando ho visto appunto lì scritto Iron Man in tendenza, però poi ho visto quali erano i tweet, insomma, quali erano state le cose pubblicate, e ti devo dire che io non ero assolutamente a conoscenza del fatto che, ok, sicuramente c'era una data per quando è successo l'evento di Avengers Endgame, e tutte queste cose qui, però non sapevo assolutamente che era oggi la data nel quale appunto era morto Tony Stark. Veramente una cosa molto triste, e tra l'altro, se mi permetti, voglio giusto dire due parole al riguardo, perché ho letto molte persone che hanno detto che con lui è morto l'MCU, ora non è vero, perché ovviamente l'MCU va avanti, e hanno prodotto anche diverse cose abbastanza interessanti in questi ultimi anni, basta vedere l'ultimo Spider-Man, o anche Loki, che a mio modo di vedere la prima stagione è da Dio, la seconda stagione al momento è sicuramente ottima, però appunto io credo che alla base di queste critiche ci sia essenzialmente un modo per dire non c'è più l'MCU di una volta, ovvero che era tutto striper mega collegato, i film erano belli da seguire, facevano un buon incasso al botteghino, i personaggi non erano buttati a caso, cioè non vedevi cameo o chissà che cosa che non avevano senso nel contesto di un singolo film, o quantomeno tu capivi che ti dovevi vedere tipo 3-4 film e poi arrivava il film crossover stile Avengers, no? Ecco, tutte queste cose qua purtroppo si sono perse nella fase 4, che ok, so già che la gente mi dirà che forse ci siamo abituati male noi, che in ogni fase dell'MCU c'era un film crossover, anche più di uno, perché non era solamente appunto quello degli Avengers, però ti ripeto, io se c'è una cosa che rimpianco delle prime tre fasi dell'MCU e che era veramente molto collegato, poi certo hanno avuto i loro alti e bassi, basta solo pensare al fatto che hanno dovuto fare il recast di Hulk, hanno dovuto annullare diversi film su questo personaggio, hanno inserito veramente nella parte finale appunto di questi film, insomma di queste fasi, il personaggio di Spider-Man del quale prima non avevano i diritti, e tra l'altro lo hanno inserito anche abbastanza bene, se mi permetti, c'è, se non mi ricordo male, Captain America Civil War era uscito nel 2016, lo stesso anno nel quale era uscito anche la prima versione di Justice League, e vedere come hanno introdotto il personaggio di Spider-Man all'interno di Civil War rispetto a tutti i personaggi nuovi come Flash, Cyborg e compagnia bella all'interno di Justice League, c'è, veramente era la differenza tra mare e monte, proprio, c'era una cosa assurda, quindi è stato bello come hanno inserito questa parte, e poi certo si è arrivati alla conclusione di questo arco narrativo con la morte appunto di Tony Stark, non è stato il solo a morire anche Natasha e diversi altri personaggi, diciamo che come dicono in inglese è stato un rollercoaster di emozioni, ovvero non sapevi mai cosa aspettarti, perché sapevi che i registi, gli sceneggiatori stavano puntando a un qualcosa, ma nessuno immagina che si poteva aspettare quello che è stato appunto l'evento di Avengers Infinity War ed Endgame a distanza di un anno, senza contare che poi in quell'anno non facevano tanto marketing per Endgame, non so se vi ricordate questo, che nei trailer non si vedeva quasi nulla, che anche questo andava ad aggiungere un po' di attesa al tutto, no? Quindi, ti ripeto, è stato un bel momento, e a prescindere dal fatto che questo personaggio non c'è più, che l'attore ormai sta seguendo insomma altri film, basta solo vederlo su Oppenheimer e diversi appunto altri film con altri registi, ti ripeto, secondo me l'MCU quello che dovrebbe fare in futuro è cercare di tornare ad essere un pochino più coeso, perché va bene fare robe diverse, fare robe un pochino slegate dal tramone principale, ma né tanto meno puoi avere una serie di personaggi che, cioè io l'avrò detto diverse volte, ma lo voglio ripetere, quando arriva il prossimo film degli Avengers, chi diavolo vai a chiamare? Non c'è un personaggio costante all'interno di questo franchise, cioè o uno è morto, o l'altro è andato in vacanza, gli altri si sono dispersi, quell'altro sono morti, cioè non si capisce una mazza, che poi certo ci sta che è un progresso naturale nel fatto che non puoi sempre avere gli stessi personaggi, e devi bene o male cambiare, insomma sostituirli, però permettimi che nella fase 4 non ci sono proprio riusciti. Ora vedremo un pochino che cosa accade nella fase 5, ma al momento non ho così tante aspettative, però detto questo, sicuramente la morte di Tony Stark è stato un momento epocale per quanto riguarda il franchise, e ha fatto parte insomma di uno dei film con più incassi della storia del cinema, ha definito la pop culture di questi ultimi anni senza ombra di dubbio, ed era doveroso appunto dire qualcosina in una giornata così tanto particolare come questa. Detto questo, andiamo andati, voglio far vedere una cosina molto particolare, che immagino a molti non ci capiranno nulla, perché si tratta di robine su PC, ovvero vi faccio vedere quello che è stato il mio hobby per diversi anni, ovvero la virtual photography, del quale ne ho già parlato diverse volte in alcuni video, su The Division e altre cose, anche su Genshin Impact se non ricordo male, in passato, e di che cosa tratta questa virtual photography? Essenzialmente è un modo di scattare degli screenshot artistici all'interno dei vari videogiochi, sfruttando delle mod, sfruttando dei programmi fan made, creati appunto da diversi fan, che ti permettono di fare appunto delle immagini estremamente artistiche. Ora, il video che state vedendo in sottofondo è stato caricato da una persona che, posso dire che mezzo mezzo conosco, ovvero da Berdu, che è uno screenshot artist da ormai non so quanti anni, mi pare che lavora con Electronic Arts, non ricordo male, e appunto lui si occupa di fare questi screenshot artistici, non solo per quanto riguarda appunto i giochi di Electronic Arts e quant'altro, ma anche diversi altri giochi, come si può vedere appunto qua in basso su schermo, o meglio qua su schermo con Cyberpunk 2077. E giusto per farti capire quanto può essere difficile sia fare un lavoro di questo tipo che anche farlo come hobby, guarda quanti menu devi essenzialmente controllare tra mod, reshade, anche telecamera libera e tutto il resto, per arrivare ad avere una posa di un personaggio, applicare le giuste luci, le giuste correzioni ai colori, degli effetti particolari, metterli in posa vicini, cioè è veramente una gran figata se mi permetti, avrei voluto continuare anche io, magari farlo diventare una sorta di lavoro, ma richiede veramente tanto di quell'impegno. Poi devi anche conoscere un pochino di programmazione per poter sapere gestire insomma tutti questi programmi, però era giusto per darvi un'idea di come, di cosa c'è dietro uno screenshot quando viene condiviso da diverse persone in rete, cioè non si tratta semplicemente di ok sto vedendo una scena, faccio uno screenshot, premo un tasto e ho fatto jackpot, assolutamente no, questo veramente si tratta di fare cose molto più particolari e ti permette anche di dare una nuova vita al gioco, cioè perché se ci fai caso stai letteralmente modificando una scena semplice che diventa tutta un'altra cosa, appunto utilizzando delle mod, reshade, tutti questi programmi aggiuntivi che ti rende l'esperienza di gioco del tutto unica. Poi certo, ti ripeto, non è una cosa che riescono a fare tutti, però mi piace parlarne ogni tanto perché è una cosa veramente molto bella e che alla fine purtroppo non viene neanche supportata tanto dagli sviluppatori insomma ufficiali che producono videogiochi perché ok ti vanno a mettere una foto mod ogni tanto all'interno dei giochi, però molte volte questa foto mod è limitata, quindi se vuoi veramente fare qualcosa di questo tipo non lo puoi fare, almeno su console è assolutamente impossibile, mentre noi ci diciamo che su PC c'è un pochino più di varietà proprio perché hai modo di accedere a tutte queste mod aggiuntive per quanto riguarda i giochi e guarda te cosa riesci a fare, che poi non l'ho detto ma molte volte quando tu vedi che delle persone si occupano di queste cose solitamente fanno girare il gioco a risoluzioni veramente molto più alte, tipo appunto che non so un 8K o qualcosa del genere o fanno una cosa che si chiama hot sampling dove tu magari vai ad aumentare la risoluzione essenzialmente della finestra del gioco mentre invece il rendering rimane bene o male fisso e appunto tu immagina che stai scattando tutti questi screenshot mentre il gioco ti sta girando tipo a 10-15 frame, se non peggio, che non è una situazione assolutamente buona soprattutto perché vai a utilizzare troppo le risorse del PC nel caso, però se poi ne viene fuori qualcosa di estremamente bello insomma ben bene, però appunto questo era insomma un pochino la virtual photography che vi straconsiglio di informarvi in rete se vi va di seguire appunto questo hobby e soprattutto di andare a supportare gli screenshot artis che trovate in rete come il signorino Berdu a quale mando un saluto perché veramente è bravissimo in quello che fa e quindi vi faccio vedere